Ciao a tutti amici di Foxtec e benvenuti alla nostra recensione della Panasonic Lumix G100 una mirrorless micro 4 terzi pensata principalmente per vlog e per gli utenti che la vogliono utilizzare in mobilità proprio per questi scopi infatti al suo interno troviamo tante piccole funzionalità che la rendono proprio specifica quasi esclusivamente o meglio secondo naturalmente i piani di Panasonic per questa tipologia di utenti prima fra tutti è sicuramente il kit, infatti in vendita troviamo un kit con all'interno anche questo piccolo treppiedi che è molto comodo proprio nell'utilizzo in mobilità, infatti vedete può essere utilizzato come impugnatura ma presenta anche un cavo micro USB che permetterà di collegare l'impugnatura alla macchina e allo stesso tempo sfruttare i pulsanti che troviamo sull'impugnatura stessa per scattare istantanei o per avviare la registrazione video scopriamola da vicino, vediamo se effettivamente può andare a contendere il primato alle altre macchine ad esempio mi viene in mente la Sony XZ V1 che è stata appena presentata sul mercato tutto dopo la nostra signa le dimensioni della Lumix G100 sono davvero molto ma molto ridotte proprio per cercare di facilitarne l'utilizzo in mobilità infatti raggiunge 115,6 x 82,5 x 54,2 mm di spessore naturalmente senza ottica con un peso di 345 rammi è una macchina che presenta una impugnatura un po' meno marcata rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere e in particolare se utilizzate un'ottica molto grande o meglio con un diametro molto ampio sappiate che potrebbe andare ad inficiare l'impugnatura stessa e quindi andare ad occupare un po' lo spazio e avere meno spazio per le mani però date le dimensioni della macchina che ricordiamo essere quasi vicina ad una compatta l'impugnatura è sufficiente per l'utilizzo con una mano e il trasporto tranquillamente anche in mobilità esteticamente parliamo della classica camera di Panasonic naturalmente semplificata rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere il corpo è realizzato in lega di magnesio, è tropicalizzato quindi per la resistenza agli schizzi e alla polvere e superiormente troviamo la classica disposizione quindi tasto di ascensione e spegnimento con il pulsante di scatto tasto di registrazione in contrasto con colorazione rossa la ghiera per scegliere la modalità di utilizzo il pulsante FN che di base controlla l'esposizione mentre sulla parte sinistra abbiamo due tasti personizzabili e il pulsante per accedere direttamente al mirino il quale è un live viewfinder da 3,68 milioni di punti con copertura del campo visivo del 100% zona accomodamento dell'occhio a 20 mm e sensore occhio interrato è un buon mirino non particolarmente performante ma possiamo definirlo in linea con i 695 euro circa che sono necessari per acquistare la macchina ha una buona luce quindi può essere tranquillamente utilizzato in ogni condizione avrà un buon dettaglio e un buon frame rate che non ci farà perdere alcuna scena nel momento in cui lo utilizzeremo la parte posteriore è invece occupata quasi interamente dal display infatti troviamo pochissimi pulsanti relegati nella parte destra e superiormente un alloggiamento molto utile nell'impugnatura della macchina infatti nel momento in cui noi la avremo tra le mani avremo la parte anteriore della mano che sfrutterà l'impugnatura anteriore mentre il pollice sfrutterà questa scanalatura che permetterà di avere un'impugnatura ancora più salda ed è davvero anche in questo caso un aspetto importante proprio nell'utilizzo in mobilità tornando invece a parlare del display è il classico LCD TFT con controllo touch statico è completamente orientabile ed è da 3 pollici 7,5 cm di diagonale con risoluzione 1,84 milioni di pixel e copertura del campo visivo del 100% la prima cosa che notiamo è la buonissima luminosità infatti è un display che può essere tranquillamente utilizzato sotto la luce solare diretta e non deluderà naturalmente le vostre aspettative in quanto si vedrà perfettamente tutto quanto allo stesso modo però il dettaglio e la nitidezza dei colori non sono particolarmente elevati e come nel caso del mirino elettronico siamo in linea naturalmente con la fascia di presto ma sicuramente uno dei suoi aspetti più importanti è l'essere orientabile infatti non è il classico display tiltabile di 180 radio tiltabile in varie direzioni ma è completamente orientabile come Panasonic ci ha abituato a vedere in passato e nel momento in cui l'utente lo ruoterà nella parte anteriore verrà attivata anche la modalità vlog che porta con sé alcune piccole chicche che rendono questa macchina ancora più interessante e mirata proprio per questi utilizzi infatti abbiamo un riquadro rack che percorre tutti i bordi del display che ci permetterà di capire rapidamente se effettivamente è stata avviata la registrazione abbiamo il countdown di circa 3 secondi dal momento in cui noi premiamo il pulsante di registrazione oppure il frame marker che anticiperà quindi il crop per favorire la ripresa e l'adattamento ai vari social network su cui effettivamente noi vorremmo utilizzare il video stesso e infine il rilevamento verticale anche in questo caso per cercare di favorire la condivisione sui social verrà adattato il video in verticale dipendentemente naturalmente dal social in cui vorrete utilizzarlo finendo di parlare della Panasonic Lumix G100 da un punto di vista puramente estetico notiamo sul lato sinistro il jack da 3.5 mm per il collegamento di un microfono esterno mentre sul lato destro scopriamo purtroppo un handicap non da poco infatti abbiamo una uscita microacademia di tipo D che permetterà il collegamento di un monitor esterno ma purtroppo abbiamo una micro usb al giorno d'oggi nel 2020 vedere una micro usb fa ancora un po' effetto proprio perché effettivamente si saremmo almeno aspettati una usb di tipo C la macchina non viene prodotta con un caricabatterie quindi questa micro usb dovrà essere utilizzata per collegarla direttamente a una presa a muro e caricare la batteria la quale è stata posizionata nel classicologiamento nella parte inferiore con lo slot anche per la micro usb per la memoria la batteria, ne parliamo subito, è da 1025 mAh è un componente non particolarmente capiente che non permetterà un utilizzo spasmodico della macchina infatti raggiungeremo circa 270 immagini con il mirino elettronico 900 immagini sfruttando il display posteriore e 80 minuti di registrazione continua in 4K sono numeri in linea con i dispositivi di questo tipo il mio consiglio è quello di ricorrere ad un componente accessorio se la volete utilizzare molto in mobilità anteriormente troviamo un sensore mouse live micro 4 terzi da 21,77 megapixel con filtro a colori primari è una macchina con ottiche intercambiabili quindi potrete utilizzare tutte le ottiche che Panasonic commercializza per i micro 4 terzi anche quelle ad esempio che utilizzate su Panasonic GH5 e GH5S ed è anche in questo caso un aspetto da prendere assolutamente in considerazione l'otturatore con piano focale è controllato elettronicamente e permette una velocità di scatto che oscilla tra un 16 millesimo di secondo e 60 secondi per uno scatto continuo che va da 6 fotogrammi al secondo fino a 10 fotogrammi al secondo con l'otturatore solo elettronico è presente comunque anche la modalità 4K foto caratteristica delle Panasonic che permetterà di registrare un piccolo video in 4K a 30 fps dal quale poi estrapolare una serie di immagini la qualità fotografica all'aperto permette di realizzare immagini non particolarmente satura quindi non si nota un forte contrasto come vediamo su altri dispositivi ma allo stesso tempo hanno un dettaglio eccellente sono nitide e ben definite infatti ne sono rimasto piacevolmente colpito e sorpreso proprio perché parliamo di una macchina da 695 euro quindi una macchina non particolarmente di fascia alta o particolarmente costosa ciò che effettivamente però notiamo è un calo del dettaglio nel momento in cui andiamo chiaramente in una condizione di scassa luminosità infatti al chiuso o comunque con poca luce riusciamo a realizzare buoni scatti ISO fino a 1600 poi si vede molto rumore e più naturalmente viene aumentato il valore di ISO maggiore sarà il rumore visualizzato all'interno dell'immagine però nel complesso abbiamo scatti abbastanza luminosi, dettagliati e precisi chiaramente non si riesce ad ottenere un buon dettaglio quanto all'aria aperta ma era ciò che ci saremmo effettivamente aspettati e purtroppo la presenza della sola stabilizzazione elettronica porta in alcune occasioni a realizzare uno scatto mosso che non è sempre bellissimo da vedere la ripresa video raggiunge al massimo il 4K a 3840 x 2160 pixel a 30 frame per secondo e a 100 megabit per secondo purtroppo notiamo una prima difficoltà nella ripresa video infatti abbiamo una limitazione a 10 minuti è una limitazione molto importante da un punto di vista temporale proprio nell'idea e nell'ottica di utilizzare questa macchina per riprese in mobilità in aggiunta bisogna anche considerare il fattore di crop in quanto noi abbiamo uno stabilizzatore che non è ottico sul sensore ma uno stabilizzatore elettronico ciò significa che di base noi potremmo anche scegliere varie tipologie di stabilizzazione che potrà essere senza stabilizzazione elettronica quindi sfruttando direttamente la stabilizzazione dell'ottica una stabilizzazione standard o una stabilizzazione alta e dipendentemente dal tipo di stabilizzazione utilizzata cambierà anche il fattore di crop quindi avremo un crop a 1,26x senza stabilizzazione elettronica un crop a 1,37x con la stabilizzazione standard fino ad arrivare a un crop 1,79x con la stabilizzazione alta sono fattori importanti soprattutto nella ripresa video e sono effettivamente da prendere in considerazione se state pensando di riprendere in mobilità e non avete l'opportunità di guardare sempre il display la qualità video è invece in linea con quanto abbiamo appena detto in termini di qualità fotografica quindi all'aperto abbiamo buoni colori una saturazione non particolarmente importante ed una buona nitidezza complessiva il dettaglio c'è, è presente e effettivamente sia il bilanciamento dei colori che il bilanciamento del bianco o la gestione delle luci avviene in maniera perfetta o meglio in linea con la fascia di prezzo in cui effettivamente noi ci troviamo al chiuso chiaramente fa un po' più fatica in quanto comunque non abbiamo un sensore particolarmente grande quindi dipenderà molto anche dall'ottica che deciderete di utilizzare però possiamo definirci soddisfatti perché siamo al livello della qualità fotografica abbiamo immagini abbastanza dettagliate abbastanza luminose anche se va detto che la mia ottica era abbastanza luminosa e con un buon rispetto dei colori e un buon bilanciamento del bianco i punti più importanti nel momento in cui noi comunque parliamo di video sono stabilizzazione, autofocus e audio parliamo prima di tutto della stabilizzazione perché come ho già anticipato in precedenza la macchina non introduce la stabilizzazione ottica sul sensore ma una stabilizzazione combinata che viene definita da Panasonic come una Hybrid ES abbiamo una stabilizzazione elettronica combinata con la stabilizzazione ottica presente eventualmente sull'ottica ciò significa che avremo una stabilizzazione a 5 assi per registrazione in full HD che diventerà a 4 assi nel momento in cui avveremo una registrazione in 4K nell'idea quindi di una macchina da utilizzare in mobilità o da utilizzare per riprese un po' strane come può essere un vlog e quindi non particolarmente stabili è un aspetto un po' negativo perché la stabilizzazione ottenuta oltre al fattore di crop di cui abbiamo già discusso non è a livelli particolarmente elevati ed è un punto a suo sfavore perché sul mercato possiamo trovare macchine che hanno una stabilizzazione migliore della suddetta stesso discorso vale per l'autofocus in quanto noi abbiamo il classico autofocus a contrasto a 49 anni con tecnologie Depth from the Focus però a differenza di quanto abbiamo visto in passato sempre sulle stesse Panasonic dimostra essere un filino lento quindi un po' addormentato soprattutto nel passaggio da un soggetto all'altro e nella possibilità di riuscire a tracciare o seguire il soggetto nel momento in cui questi si spostano all'interno dell'inquadratura è il secondo handicap principale della Panasonic Lumix G100 in aggiunta alla stabilizzazione una combinazione di due fattori che non naturalmente la svalutano particolarmente però la rendono sicuramente meno appetibile rispetto ad altri dispositivi dello stesso tipo ciò che invece ha stupito particolarmente è la registrazione audio infatti questa macchina introduce per la prima volta l'Oso Audio di Nokia e porta con sé cinque modalità di ripresa che vanno a cercare di migliorare il più possibile la registrazione sfruttando i tre microfoni posizionati su tutto il bordo e il corpo della macchina senza obbligare l'utente ad utilizzare un microfono esterno infatti di base abbiamo il rilevamento la cui gamma e direzione di registrazione è automatica e quindi verrà attivato in automatico il microfono verso il quale la macchina ha rilevato un volto di una persona e cercherà di tracciarlo non solo da un punto di vista di messa a fuoco ma anche proprio di registrazione audio in aggiunta abbiamo la funzione audio che è una funzione standard in aggiunta abbiamo le altre due funzioni importanti surround che registrerà quindi l'audio in tutte le direzioni oppure frontale e posteriore in questo caso si potrà decidere di attivare il microfono per registrazione frontale quindi se state riprendendo un soggetto e volete sentire cosa dice oppure posteriore quindi se state voi riprendendo una scena e vorrete utilizzare una voce fuori campo senza far sentire troppo ciò che si trova dall'altro lato dell'obiettivo tutta questa combinazione è ottima sotto ogni punto di vista davvero ben fatto un aspetto importantissimo soprattutto nella registrazione di mobilità che ci ha portato più di una volta a registrare con questa macchina senza effettivamente utilizzare un microfono esterno in conclusione questa Panasonic Lumix G100 è una buona macchina fotografica anche se naturalmente presenta aspetti positivi e aspetti negativi tra gli aspetti positivi annoveriamo prima di tutto il prezzo infatti viene commercializzata a circa 600-700 euro ed è un prezzo più che ragionevole proprio per la qualità e le specifiche che troviamo all'interno di questa macchina fotografica in secondo luogo abbiamo sicuramente il sensore perché è un micro 4.3 come vi ho già spiegato nella recensione ed è un sensore che ci permette naturalmente di utilizzare la macchina anche con tutte le ottiche o meglio tutto il parco ottiche micro 4.3 di Panasonic quindi ad esempio pensate alle ottiche di Panasonic GH5 e GH5S sapete che potrete utilizzare senza problemi anche su questa macchina ed è sicuramente un plus per una macchina che ha un prezzo particolarmente basso in ultimo abbiamo l'impugnatura infatti se pensate di acquistare questa macchina sappiate che dovrete almeno il mio consiglio è questo acquistare la versione in kit con impugnatura infatti è una comodità immensa soprattutto se volete utilizzare la macchina secondo gli utilizzi pensati da Panasonic quindi la registrazione di vlog e la registrazione in mobilità infatti questa impugnatura che funge come avete visto anche da cavalletto è comodissima in quanto è stata pensata positivamente per la macchina è leggera ci permetterà di avere un'impugnatura maggiore proprio nella ripresa stessa e ha questi due pulsanti che permetteranno di controllare la macchina semplicemente dall'impugnatura stessa se davvero la volete acquistare sappiate che è fondamentale proprio perché ne facilita sicuramente l'utilizzo e ne impreziosisce il prezzo finale allo stesso modo sicuramente è interessante anche la qualità complessiva della macchina perché è una macchina non particolarmente performante però devo dire che in termini di qualità di scatti e di qualità di ripresa video siamo comunque a buon livello parlando invece degli aspetti negativi cosa vi posso dire prima di tutto la stabilizzazione è buona ma non è eccellente perché non abbiamo stabilizzazione ottica sul sensore ciò significa che noi ci affidiamo interamente alla stabilizzazione elettronica del sensore o meglio della macchina accoppiata con la stabilizzazione eventuale dell'ottica in questo modo quindi noi abbiamo una sorta di hybrid dual IS che però sarà combinato tra elettronico e meccanico dell'ottica in questo modo avremo una stabilizzazione a 5 assi in full HD e una stabilizzazione a 4 assi in 4K che nel complesso è sufficiente, questo va detto però non dà quella soddisfazione in più che noi ci saranno aspettati da una macchina pensata quasi esclusivamente proprio per l'utilizzo in mobilità e quindi in riprese che non sempre sono o non possono essere stabili in secondo luogo l'altra cosa che non mi è piaciuta particolarmente è sicuramente l'autofocus perché è un autofocus un po' lento rispetto a quanto Panasonic ci ha abituato a vedere in passato è lento, è addormentato e anche nel momento in cui noi andiamo a spostare l'attenzione da un soggetto all'altro la macchina non risponde rapidamente quanto effettivamente vorremmo è un autofocus che un po' ripercorre quanto stiamo vedendo ultimamente su Panasonic quindi un autofocus non sempre performante nonostante venga utilizzata la tecnologia Adapt from the Focus però in questo caso l'abbiamo notato forse un filino più lento del dovuto anche se va detto che naturalmente è una valutazione anche in parte soggettiva perché dipenderà anche dagli utilizzi che effettivamente ne vorrete fare con questa macchina se il nostro video vi è piaciuto vi invito a mettere un mi piace qui sotto naturalmente iscrivetevi al nostro canale per essere sempre aggiornati su tutti i futuri video